San Giuseppe lavoratore. Si è fatta un'altra casa, Giuseppe, o una villetta al mare, al lago, dove passare le vacanze con Gesù e Maria? La lezione di Giuseppe, penso stia in una cosa molto essenziale, lavorare per il necessario alla vita, per il puro necessario. Tutto il resto è guadagno in sovrappiù, è attaccamento alla materia, è materialismo, è lavoro sprecato perché detrai tempo alla preghiera, alla contemplazione, all'arricchimento intellettuale e spirituale. Da qui tutti i mali. La cattiva formazione riguardo i figlioli, l'avidità, il perseguire con avidità i beni per la pura soddisfazione di raggiungere il benessere e la ricchezza, il potere del denaro che altri hanno raggiunto. Da qui lo sconvolgimento dei valori umani. Da qui l'inguaribilità del male originato dall'ingiusta distribuzione dei beni. Da qui l'instabilità morale e le pervaricazioni di ogni genere. Egoismo, insensibilità, materialismo, miopia spirituale e mentale, paura di malattie, terrore della morte, superstizione, strumentalizzazione di fede e di credenza, vanità e disperazione, ipocrisie e vendette, contestazioni e rivoluzioni illusorie.